buongiorno e benvenuti io sono pierluca bruna expert and product manager safety e oggi parliamo di sicurezza macchine il miglioramento della sicurezza delle macchine industriali la digitalizzazione e la sostenibilità sono l'obiettivo dei costruttori e degli utilizzatori di macchine che favorisce efficienza e produttività la sicurezza degli addetti alle macchine incide direttamente sulla reputazione aziendale le complessità delle norme vigenti il numero elevato dei sistemi di sicurezza rendono difficile il compito del progettista di un impianto industriale schneider electric è un partner anche per la sicurezza macchine sviluppa e propone soluzioni vantaggiose in caso di offrire una catena di sicurezza completa dal sensore safety alla gestione in sicurezza del motore garantendo il corretto livello di sicurezza della macchina in conformità alle norme di tipo a di progettazione di tipo b per i dispositivi di sicurezza e di tipo c per tipologia di macchina le soluzioni e costruttori machine safety conformi ai più elevati standard di sostenibilità sono certificate green premium permettono una completa scalabilità dell'offerta per tutte le esigenze applicative la diagnostica smart e l'integrazione dello stato e funzionamento della sicurezza nell'automazione della macchina permette un completo monitoraggio delle funzioni di sicurezza della macchina anche su cloud schneider electric è un partner per la formazione tecnica per il supporto applicativo e con esperti della normazione safety assiste lo IEM durante il processo di certificazione validazione e realizzazione della functional safety le safety chain solution di schneider electric sono architetture certificate pronte all'uso e facile da utilizzare sono corredate di scheda tecnica e di validazione del performance level sono disponibili tutte le principali funzioni di sicurezza della macchina con la scalabilità delle soluzioni safety per una migliore efficienza schneider electric dispone di soluzioni complete per le funzioni di sicurezza per macchine semplici e impianti complessi architetture facilmente integrabili nell'automazione di macchina con diagnostica e comunicazione trasparente propone corsi di formazione tecnica e supporto di coprogettazione per integrare la sicurezza in modo semplice ed efficiente sulla macchina i nostri corsi di formazione nostro supporto applicativo garantiscono la validazione della safety sulla macchina e grazie alla completa safety chain solution e costato il machine safety si ottiene il livello di sicurezza adeguato la sicurezza della macchina un concetto importante che deve essere garantito durante tutto il ciclo di vita dell'impianto dalla progettazione fino alla rottomazione della macchina un tempo le macchine erano sicure durante il funzionamento normale ma quando si realizzavano operazioni di manutenzione o regolazione spesso era necessario bypassare le sicurezze oggi questo non è più accettato e le nuove normative pongono soprattutto l'attenzione sulle fasi di lavoro più a rischio per avere la sicurezza durante tutto il ciclo di vita della macchina evitare incidenti sul lavoro è un obbligo morale per tutti gli addetti alla sicurezza il datore di lavoro il costruttore il progettista il manutentore la normativa rivolta ai costruttori di macchine e agli end user impone macchine sicure ci sono poi delle ragioni economiche fondamentali che spingono ad evitare incidenti sul lavoro la mancanza del personale infortunato l'aumento dei premi assicurativi le macchine bloccate e spesso la reputazione dell'azienda viene rovinata a seguito di un incidente con conseguenze gravi che potrebbero portare anche al fallimento in caso di incidenti mortali è determinante il processo di valutazione e riduzione dei rischi per il progettista di una macchina poter definire i limiti della lavorazione le tipologie di prodotto le velocità in gioco al fine di individuare pericoli ed eventuali rischi deve essere applicato il concetto di riduzione dei rischi per portarlo ad un limite accettabile altrimenti è necessario introdurre una misura di sicurezza realizzare una functional safety la definizione di functional safety di un circuito di protezione è un po l'affidabilità che la funzione di sicurezza può garantire al sistema di comando pericoloso della macchina la slide mostra una barriera di sicurezza più il suo circuito di controllo ed attuazione la functional safety in questo caso è la somma delle affidabilità dei singoli componenti del circuito safety un malfunzionamento di un dispositivo della catena di sicurezza può provocare una situazione pericolosa è importante determinare l'affidabilità di un circuito di sicurezza che sia una protezione mobile un comando due mani oppure un dispositivo di emergenza le normative oggi chiedono la valutazione dell'affidabilità con le valutazioni del performance level oppure del sil per macchie di nuova produzione ma anche per i circuiti e per la messa in conformità degli impianti le normative per il calco dell'affidabilità dei circuiti di sicurezza sono complesse le due norme IEC 62061 per il sil e la iso 13 849 1 per il performance level permettono di progettare un sistema di comando safety della macchina schneider electric ha realizzato una serie di supporti gratuiti per il progettista della macchina per facilitare l'adozione delle nuove normative i tool sono scaricabili dal sito di schneider electric.it nella sezione sicurezza macchine trovate un'ampia disponibilità di safety chain solution sul sito per tutte le funzioni di sicurezza della macchina la possibilità di scaricare il software sistema di IFA tool di riferimento del mercato per definire e calcolare il performance level della functional safety sono disponibili e scaricabili gratuitamente le guide applicative i documenti normativi europei per la sicurezza macchine Ecostractor machine safety è una soluzione completa per gestire le funzioni di sicurezza di un impianto industriale ampia la gamma di componenti di rilevamento e comando safety monitoraggio elaborazione del segnale e gestione in sicurezza del motore con contattori e drive con safety integrata le safety chain solution il software sistema con le librerie schneider e il safety service completano l'offerta di schneider electric per la sicurezza delle macchine